Sì, ero d'accordo che Daytoni si chiamava come chiamata di cortesia per sapere i dettagli dell'ultima giornata. E lei dopo la mattina prenderà il capo e si troverà le chiave in un posto determinato. Eccoci qua! Che arrivo, eh! Io! Ecco, non so. Oh, vai! Eh, ma non si riesce perché è veramente sicuramente pieno. Però insomma, dai, tra l'uno e l'altra si ritirà. Tu, io sei immobile! Ma ciò un attimo! Ma ferma! Una bottiglia, perché sono allineata! Dai, rimanete qui, ci vediamo domani mattina! Vai! Vai, vai, vai!